39. 39. 39. Car breakdown. Guasto alla macchina. Guasto alla macchina. Where is the next gas station? Dov'è il prossimo distributore di benzina? Dov'è il prossimo distributore di benzina? I have a flat tire. Ho bucato. Can you change the tire? Può cambiare la ruota? I need a few liters of diesel. Mi occorrono alcuni litri di gasolio. Mi occorrono alcuni litri di gasolio. I have no more gas. Ho finito la benzina. Ho finito la benzina. Do you have a gas can? Ha un bidone di riserva. Where can I make a call? Dove posso telefonare? Dove posso telefonare? I need a towing service. Ho bisogno di un autosoccorso. Ho bisogno di un autosoccorso. I'm looking for a garage. Cerco un'officina. Cerco un'officina. An accident has occurred. C'è stato un incidente. C'è stato un incidente. Where is the nearest telephone? Dov'è il telefono più vicino? Dov'è il telefono più vicino? Do you have a cell phone with you? Ha un cellulare. Ha un cellulare. We need help. Ci occorre aiuto. Ci occorre aiuto. Call a doctor. Chiami un medico. Chiami un medico. Chiami la polizia. Chiami la polizia. Your papers, please. I documenti, per favore. I documenti, per favore. Your license, please. La patente, per favore. La patente, per favore. Your registration, please. Il libretto di circolazione, per favore. Il libretto di circolazione, per favore.